Che state conducendo? Tutto è uno attraverso Mario del Giglio. Nel corpo esiste una parte della vostra conoscenza spirituale. Quindi l'anima è una parte dello spirito che fa vivere il vostro corpo per l'esperienza che state conducendo sulla Terra. L'anima, pertanto, non rappresenta tutta la gamma dell'esperienza spirituale di ognuno di voi. Quindi, ricordatelo sempre, ognuno di voi in questo momento sta recitando la parte di una commedia ma non rappresenta tutto ciò che come attore è in grado di fare. In altre parole, l'attore impersona la parte che deve recitare in una specifica commedia a seconda degli altri attori che sono sul palcoscenico con lui. Infatti, non incontrate a caso altri fratelli. Immaginiamo un teatro con spettatori ed attori che vi recitano. Ebbene, sul palcoscenico ci siete voi attori che vi alternate recitando con ruoli diversi le vostre esperienze evolutive. Gli spettatori in platea non li potete conoscere ma vivono anch'essi con voi. Con questo esempio cerco di spiegarvi che chi è sul palco fa parte della famiglia spirituale, non certo la famiglia spirituale universale. Chi è in platea fa parte dell'universo che vive nel pianeta Terra ma non è certo l'universo intero e che voi non incontrate pur essendo vostri e nostri fratelli. Ho mai detto i ragazzi fratelli. Grazie a tutti